Grandi risultati per questo mondiale perché abbiamo 54 nazioni iscritte, quindi è un record di sempre anche per il VTOK, 26 nazioni iscritte e poi anche la 5 giorni, quindi sono numeri molto molto significativi. Quindi 5 giorni abbiamo 1867 iscritti più gli accompagnatori, quindi stimiamo che siano circa 2800 persone che sono rimaste, hanno soggiornato nelle nostre strutture ricettive, quindi tra Asiago, Lavarone, Valsugana, quindi tutte le realtà che sono state coinvolte. Per quanto riguarda il mondiale, WOC abbiamo 450 iscritti e per quanto riguarda il VTOK sono 137 iscritti. A fianco a questa manifestazione abbiamo poi ospitato anche il congresso internazionale dell'IOF, dell'Organizzazione Internazionale di Orientamento e quindi qua hanno fatto anche la loro settimana elettiva ed è stato significativo. Grande visibilità da parte di stati che hanno trasmesso in diretta tutti gli eventi e quindi un evento che oltre a creare presenze ci ha permesso di valorizzare quelli che sono i nostri territori e di affermare anche quello che è l'aspetto organizzativo collegato poi a questa disciplina. Mi piace sottolineare anche l'impegno di volontari, abbiamo quasi 500 volontari che si sono alternati perché siamo partiti da Venezia, poi siamo arrivati a Trento, poi siamo andati a Lavarone, poi ad Asiago, a Campomulo. Quindi effettivamente abbiamo coinvolto tantissime associazioni dell'orientamento locale, quindi Trentino, Veneto, ma Lombardo e Italiane che sono venute da tutta Italia per partecipare attivamente a questo evento. Quindi credo che anche questo, noi del comitato organizzatore siamo molto contenti ma ho avuto anche un plauso e una condivisione per questo evento da parte della stessa FISO perché effettivamente qui siamo riusciti ad unire tutto il mondo organizzativo dell'Italia e dell'orientamento. Devo dire che per me è una grande emozione, trovo fantastico. questo mondiale. Ho visto tanti mondiali intorno al mondo, dalla Svezia alla Finlandia e veramente questo avevo grandi aspettative e anche un po' di preoccupazione perché so quanto è difficile organizzare un mondiale ma trovo che il comitato organizzatore abbia fatto un eccellente lavoro. Veramente sono molto, molto contenta. Siamo in corsa, siamo arrivati al penultimo giorno, una settimana intensa, partita già sabato scorso a Venezia, passando per la sprint relay a Trento, Lavarone l'altro ieri con la prova longa e quest'oggi una splendida middle distance della quale adesso aspettiamo la classifica finale degli uomini. Ma l'Italia si sta vendendo benissimo anche perché oltre a vendersi siamo anche sostanza, quindi siamo bravi, abbiamo organizzato molto molto bene, abbiamo la fortuna di avere delle location che ci invidieranno d'ora in avanti perché Venezia e Trento sono state delle esperienze uniche. Anche nel bosco sappiamo fare le cose molto bene, quindi molto tecnica la gara di oggi e direi che i 54 paesi che hanno partecipato a questo campionato del mondo hanno avuto veramente quanto di meglio si poteva aspettare e ricorderanno a lungo questo mondiale. L'IOF ci ha fatto dei grandi complimenti e quindi io in questo senso devo ringraziare l'organizzazione, devo ringraziare tutti i volontari guidati da Stefano Ravelli e dall'event manager, nonché dal presidente Mazzeni e tutto comunque lo staff che ci ha lavorato dietro, compresa l'affiso che ha supportato sin dall'inizio questo evento e che credo stia raccogliendo i frutti di quanto abbiamo seminato. Ma sicuramente adesso finiamo con domani la staffetta e poi ne parleremo sicuramente anche perché dopo questa edizione usciamo sicuramente rafforzati e ci sarà la possibilità anche di dire all'IOF di poter riconsiderare l'Italia quale prossimo teatro e palcoscenico di un mondiale. Nel frattempo proprio per festeggiare i 30 anni di organizzazioni mondiali da parte dell'affiso abbiamo presentato per l'occasione un libro unico di cui abbiamo fatto omaggio tutto il board dell'IOF che racchiude e raccoglie le otto edizioni organizzate nelle varie specialità dall'affiso dal 1984 ad oggi e abbiamo inserito anche a onorare le medaglie ottenute in questa breve ma intensa storia dell'affiso con l'oro della falda nel trailo, il bronzo di Mikhail Mamlev nella corsa e le medaglie della mountain bike ottenute da Laura Scarabonati e Davide Rossetto. Un bel impegno, campionato del mondo che si è svolto fra il Trentino e il Veneto, da quattro anni siamo impegnati in questa organizzazione devo dire che è stata un'avventura molto affascinante ma anche molto molto faticosa. Aver portato il mondiale nel Veneto e nel Trentino quindi in due realtà molto simili tra di loro ma anche altrettanto diverse è stata una bella impresa. Continuare poi con Venezia, valore aggiunto meraviglioso, l'isola di Burano poi è stata una cosa impressionante e Trento poi ha completato l'opera. Siamo molto soddisfatti fino a questo momento di quella che è la situazione e speriamo che anche domani con la staffetta possa concludersi un ciclo che noi riteniamo molto molto interessante. Speriamo ancora di avere appuntamenti di questo genere in Italia, speriamo ancora che soprattutto i nostri ospiti, gli atleti e gli accompagnatori siano più che soddisfatti di questa avventura in Italia. Abbiamo portato avanti un lavoro di ufficio stampa in modo sinergico tra comitato organizzatore e federazione, ottima anche la collaborazione tra la regia internazionale, quella nazionale e il contributo fornito poi dal nostro service federale. Sta andando molto bene, sono due anni che lavoriamo per questa organizzazione di queste cinque gare con diverse specialità, abbiamo instaurato rapporti con tutte le associazioni e le autorità competenti dei due altipiani di Venezia e di Trento, sono stati due anni impegnativi e in questi giorni stiamo raccogliendo tutti i frutti di questo lavoro. Grazie anche a tutti i volontari che abbiamo nei mesi contattato e istruito per quello che dovevano fare, abbiamo organizzato tutte le accommodation per tutte le squadre e tutti i team e i VIP della IOF che sono venuti per il congresso di quest'anno. Speriamo nella conclusione in questi giorni, in questi due giorni, con le ultime due gare che il tempo ci aiuti e che si concluda tutto nel migliore dei modi. Sì, nel 2007 ho vinto i campionati del mondo e adesso mi ritrovo sette anni dopo ad essere il direttore dell'evento, è molto impegnativo perché conosco cosa significa essere atleta e cosa significa essere organizzatore, comunque vediamo oggi alla fine di questo evento come sarà andata, per il momento bene. Abbiamo avuto qui un record di nazioni quest'anno, sono 27, lo scorso anno erano 21 in Finlandia, molte hanno deciso di iniziare quest'anno con la loro partecipazione, la loro avventura in mondiale di trail orienteering. Sono molto orgogliosa di avere qui rappresentati da tutta Europa e anche dal sud-est Europa, Finlandia, Svezia, Slovacchia, Cina, Hong Kong, insomma un po' dappertutto, quindi siamo molto onorati di avere tutte queste persone. Non sappiamo ancora come sono i risultati, stiamo attendendo gli ultimi, fino ai risultati preliminari avevamo l'italiano in testa, un italiano, Elvio Cereser, lo stiamo attendendo alla finale, quindi non sappiamo ancora se si piacerà e rimarrà al primo posto oppure se qualcun altro andrà a sorpassarlo, quindi attendiamo con ansia.